L'anniversario della liberazione d'Italia, anche chiamata festa della liberazione, anniversario della resistenza o semplicemente 25 aprile, è una festa nazionale della Repubblica Italiana che ricorda il 25 aprile ed assume un particolare significato politico e militare. In questo simbolo della vittoriosa lotta di resistenza militare politico attuata dalle forze partigiane durante la Seconda Guerra Mondiale. Grazie per la visione!